Molti di voi mi chiedono come creo le mie storie su Instagram. In questo video vi spiegherò quali sono le applicazioni che utilizzo sul mio iPhone per creare stories che possono fare la differenza. Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale. Oggi vi porto un video che sarà il primo di una piccola serie, questa sarà la versione un pochino più basic, in cui vi spiego come creo le mie storie su Instagram, quali sono le applicazioni che utilizzo per creare stories, per creare slideshow di stories e approcciarmi al visual storytelling. Sarà un video molto semplice questo, perché mi concentrerò solo ed esclusivamente su applicazioni sullo smartphone, per cui saranno tips che potete utilizzare tutti quanti, perché sono tutte applicazioni gratuite, disponibili sia per iOS che per Android, per cui direi di non perdere altro tempo in chiacchiere e di cominciare con il video. Come molti di voi avranno già sicuramente visto, io creo su Instagram un sacco di volte degli slideshow di stories per raccontare magari qualcosa, un evento o un tutorial, un procedimento per raccontare. Trovo che questo modo di raccontare attraverso le stories sia estremamente fondamentale per uno che crea contenuti su Instagram, perché permette di approcciarsi con chi lo segue in una maniera estremamente chiara, bella da vedere, impattante. In questo video vi voglio spiegare come faccio a creare tutti questi slideshow o comunque a creare tutti questi contenuti on the go solo con il mio iPhone. In un prossimo video invece, magari un pochino più approfondito, vi spiegherò come faccio a creare questi contenuti invece utilizzando Photoshop, utilizzando il computer e magari vi farò anche un tutorial su come creare i vostri template personalizzati. Innanzitutto parto col dire che io le mie foto le scatto interamente con l'iPhone, tutte quelle che vedete nelle stories e sono tutte quante editate con VSCO. Io in particolare ho VSCO X perché mi permette di avere un ventaglio di preset già forniti dal programma estremamente ampio ed estremamente valido, che mi piacciono parecchio. Inoltre mi permette di editare con tutti i pannelli a disposizione e non avere alcuna limitazione. Per un lungo periodo di tempo ho utilizzato VSCO normale, quindi quello gratuito che potete scaricare tutti quanti. Penso non abbia bisogno di grandi presentazioni perché è un'app estremamente famosa, forse la più famosa per gli smartphone. Vi permette di modificare le foto e nella versione a pagamento anche i video. Come ho già detto, edito tutto quanto con questa applicazione perché è molto veloce, è molto semplice ad utilizzare, è molto immediata. Inizialmente utilizzavo Lightroom Mobile, però la trovavo un pochino più macchinosa, un pochino più lenta e siccome quando sono in giro non voglio mai soffermarmi troppo tempo a fare stories, o meglio a editare stories, volevo qualcosa di un pochino più veloce, di un pochino più efficiente e soprattutto alla portata di ogni situazione. Partendo da questa premessa, che secondo me è la parte un pochino più superflua perché alla fine ognuno edita le proprie foto come vuole, conosco tante persone che fanno esattamente la stessa cosa però passando sempre per il computer, che ovviamente rende la cosa un pochino più complicata, un pochino più macchinosa. Come creo i miei slideshow di stories direttamente dal telefono? Io utilizzo un'applicazione Unfold che a mio parere è veramente sensazionale, io la utilizzo forse veramente dal day one della sua uscita. Mi sono trovato estremamente conto perché è un'applicazione che fornisce tutta una serie di template suddivisi in diverse tipologie, quindi qualora uno volesse fare una serie di stories con una correnza a livello di template e a livello di grafiche può farlo e come state vedendo vi fornisce tante tipologie di pacchetti, io li ho acquistati tutti quelli acquistabili, c'è anche una versione ad abbonamento che è uscita recentemente e che io non ho acquistato perché mi basta avere tutti quei pacchetti che ho acquistato singolarmente nel corso dell'ultimo anno, penso. Come vi stavo dicendo già in precedenza, mi permette appunto di creare delle stories che mi permettono di raccontare degli eventi, dei momenti o dei tutorial, delle spiegazioni o delle release di qualcosa come ho fatto recentemente appunto con i filtri per Instagram. Questa applicazione come state vedendo vi dà questi template in cui voi potete inserire le foto come volete e ridimensionarle, potete scriverci sopra e potete posizionare le scritte e cambiare i font. Recentemente sono state aggiunte altre funzioni come il cambio colore delle scritte, gli sticker, sono tutte funzioni che non utilizzo perché mi sembrano già eccessibili e a me personalmente piacciono delle cose abbastanza minimal, molto semplici, senza troppi fronzoli per cui io utilizzo la versione più basic dell'applicazione, quella fondamentalmente gratuita se voi non acquistate altri template, è una cosa assolutamente facoltativa e come vi farò vedere poi in un altro video potete ricrearli volendo anche sul vostro computer. Ma come mi approccio alla creazione di questi contenuti? Innanzitutto c'è sempre una slideshow di introduzione, quindi una cover che vi introduce a ciò che voglio mostrarvi. All'interno di queste stories cerco sempre di ragionare nell'avere un'alternanza tra stories in cui sono presenti immagini sia più particolari di dettagli sia immagini più generiche che raccontino l'intera situazione e alternarla a questi tipi di collage a immagini singole, quindi magari le foto un pochino più evocative, un pochino più esplicative del momento della situazione dove è presente magari qualche elemento fondamentale, qualche elemento di spicco in quello che voglio raccontare e voglio focalizzare l'attenzione solo ed esclusivamente su quell'elemento. Un esempio che posso mostrarvi è questo slideshow di stories che ho fatto in una giornata a Milano basato interamente sulle geometrie dei palazzi del Samsung District. Come potete vedere è presente una storia in cui ci sono i tre palazzi, quindi la parte diciamo più generica e un dettaglio dei palazzi, quindi questo spigolo di queste balconate per mostrare appunto la geometria dei balconi. In seguito c'è una storia con l'intero pattern di un altro palazzo perché secondo me questo pattern è particolarmente impattante da vedere singolarmente e ad averlo inserito in una storia come quella di prima secondo me avrebbe perso molto di impatto e come potete vedere io creo sempre un'alternanza tra contenuti in cui sono presenti diverse tipologie di storie quindi al dettaglio e generica e contenuti in cui è presente un elemento singolo a cui voglio dar rilievo. Secondo me questa alternanza permette a chi guarda questa tipologia di contenuti di rimanere sempre attento perché non diventa ripetitiva e non sa mai cosa aspettarsi o comunque ha sempre contenuti diversi sotto l'occhio. Io spesso aggiungo anche dei video che fanno quasi da intermezzo tra un blocco e un altro di storie quindi vado addirittura a suddividere l'intero slideshow in blocco 1 video intermezzo blocco 2 o addirittura più blocchi interpellati da più video. Secondo me funziona molto come cosa perché il video soprattutto a mio parere da vedere è molto più di intrattenimento, molto più dinamico anche se è un video estremamente semplice come quelli che magari mettiamo nelle stories per cui il mio consiglio è questo cercate di non essere ripetitivi cercate di focalizzarvi su vari elementi da mostrare a chi guarda poi questo slideshow. Secondo me questa tipologia di contenuti è estremamente importante per chi crea contenuti su Instagram anche banalmente per un ritrattista mostrare un backstage di uno shooting come ho fatto già varie volte come state vedendo qua la prima volta che ho scattato qua a Milano perché vi permette di avere un contenuto a supporto di quelli che poi saranno in post che tiene chi poi andrà a visualizzare i vostri contenuti attento sempre sul chi va là e non necessariamente vi obblicherà magari a creare contenuti un pochino più complicati come può essere ad esempio un video su YouTube. Io l'ho utilizzato per grandi periodi a supporto di quello che facevo e chi mi segue da più tempo lo sa e per cui vi straconsiglio questa applicazione perché poi è un'applicazione estremamente intuitiva e che potete utilizzare in qualsiasi circostanza. Io la utilizzo nei ritagli di tempo tra uno spostamento e l'altra e mi permette di essere sempre attivo. Diciamo che l'evoluzione di tutto questo processo che io faccio interamente con smartphone è portare tutti questi contenuti che producete sul vostro computer editarli poi con Lightroom, Photoshop o quello che più preferite e poi creare le vostre storie personalizzate con i vostri template personalizzati io ne ho alcuni come questi qua che state vedendo inserire le vostre foto e poi pubblicarle. Ma per questa tipologia di contenuti volevo dedicare un video a parte per farvi vedere appunto come creare un vostro template e dargli una coerenza a livello di design, a livello visivo in modo tale da poi poterla mantenere in qualsiasi altro slideshow che voi vogliate creare. Per cui in questo video mi fermerò qui, mi fermerò nel parlarvi soltanto di queste due applicazioni che utilizzo praticamente tutti i giorni e presto vi farò un video in cui vi spiegherò tutta questa parte un pochino più pro e in cui vi mostrerò come appunto creare questi template. Per cui grazie per essere arrivati fin qui con la visione del video, vi lascio tutti i link utili per scaricare questa applicazione in descrizione e se volete creare degli slide cioè taggarmi e farmeli vedere sono felicissimo di darvi un parere, sono felicissimo di vederli e sono anche molto curioso di vedere cosa siete in grado di creare dato che ogni volta che vi invito a creare qualcosa e taggarmi e mostrarmelo mi avete sempre comunque colpito. Per cui grazie di nuovo per la visione del video, grazie per essere arrivati fino a questo punto come al solito se volete parlare e discutere e chiacchierare sempre in maniera civile potete farlo su Instagram o qui sotto nei commenti e per cui grazie di nuovo per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.